Paolo, perché scriviamo un racconto? Io non lo so perché tutti quanti scrivono un racconto, cioè io posso dire perché lo scrivo io quando mi succede da scrivere e noi scriviamo un racconto perché non ne possiamo fare a meno, perché il racconto in realtà c'è già, perché quando ci fermiamo a pensare ci viene fuori una storia o anche semplicemente comincia a delinearsi nella nostra mente un paragrafo, una serie di parole oppure una scena chiave. Credo che tutti noi nel nostro proprio essere, esseri umani, abbiamo questa enorme potenzialità di narrare, di raccontare. Allora ci sono quelli che non hanno la forza di raccontare, magari tornano a casa e pensano soltanto e per quelli c'è bisogno di fare molta fatica per raccontare. Ci sono quelli che invece appena tornano a casa ti devono raccontare quello che hanno visto e lì ci sono due categorie, quelli che te lo devono raccontare a tutti i costi e sono noiosi e oppure quelli che te lo devono raccontare a tutti i costi e tu li stai a sentire felici. Quando tu lo stai a sentire felice, uno che ti sta raccontando una storia, io al 99% penso che quello sia uno scrittore e quindi ogni volta che io ho avuto la tentazione di raccontare una storia sentivo che era necessario proprio raccontarla per me. Quindi io dico, io credo che raccontiamo e racconto più del romanzo, attenzione, perché il romanzo è una struttura in un'impalcatura complicata, complessa, alla quale si devono dedicare molti, molti, molti giorni, eccetera. Il racconto invece è proprio quella cosa che tu hai necessità di raccontare. Poi in una scuola, oppure avendo a che fare con altri scrittori, con amici che scrivono, come diceva Gian Giacomo, uno impara a raccontare meglio. Una delle cose più belle che succedono nella scuola di scrittura è quando tu leggi ad alta voce il tuo racconto di fronte agli altri, perché quando tu leggi ad alta voce il tuo racconto di fronte agli altri succedono due possibili cose, che gli altri smettono di parlare e ti stanno a sentire. Questa è meravigliosa, è una cosa meravigliosa, tu improvvisamente senti che qualcosa è cambiato dentro alla tua vita di scrittore, diciamo così. Per quel momento sei uno scrittore. Oppure succede quell'altra cosa che tu stai leggendo il tuo racconto, ti commuovi addirittura, piangi. Cioè mio Dio che cosa meravigliosa che ho scritto e gli altri vedi che cominciano a parlottare tra loro. Si scambiano i trucchi, fanno cose di questo tipo e allora tu devi capire che lì è il momento di di imparare a raccontare meglio. Quasi sempre non è la storia che conta. Magari sono cattivi e invidiosi. Ma no, non sono cattivi e invidiosi. Guarda che se tu hai uno che racconta una grande bella storia, pure sei uno che ti sta antipatico, lo stai a sentire. Magari lo stai a sentire con quell'atteggiamento di dire, vabbè, sentiamo che dice questo idiota, eh? Ma poi ti prende. E quella è la cosa incredibile. Ed è questo anche quello che dicevate prima sui concorsi letterari, per esempio, no? Cioè io mi piazzo dentro un concorso letterario perché? Perché voglio vedere se sono stato bravo a scrivere. Ma questo in fondo è solo vanità. Io mi piazzo dentro un concorso letterario perché voglio che qualcuno mi legga e si convinca che quella è una storia che vale la pena che sia stata scritta. Farmacia letteraria, un podcast della scuola di scrittura Genius. Se avete una domanda, mandate un vocale 351 877 9461. Radio Genius. Se ti piace, metti mi piace.